Con l'inaugurazione della nuova sede Hauser di Perledo c'è un nuovo importante tassello per l'attività della vostra associazione. Oggi per noi è una bella giornata perché apriamo la sedicesima sede di Hauser in provincia di Lecco e questo per noi è molto importante perché oggi questo presidio non è soltanto come dire un luogo fatto di mura ma è un luogo di ritrovo per la cittadinanza, per i volontari dove discutere dei problemi degli anziani e come risolvere i problemi degli anziani e delle persone fragili. Una sede che c'è stata affidata da parte dell'amministrazione comunale che noi ringraziamo e che sarà un luogo dove permetterà appunto come dicevo di affrontare quelle sono le risposte verso gli anziani di Perledo ma anche della zona. La Hauser è un'associazione non solo locale ma di area vasta. Quando dico di area vasta significa che noi andiamo come dire a portare il nostro aiuto e il nostro tempo donato là dove c'è bisogno per cui se ci sarà bisogno di cittadini che non sono di Perledo ma che hanno delle necessità di Hauser questa sede sarà a loro disposizione per risolvere i loro problemi. Qui faremo i trasporti sociali e accompagnamento verso i luoghi di cura. Ci occuperemo per la prima volta anche di affrontare il tema della telefonia sociale e di compagnia verso il tema della solitudine che è veramente un tema che è sempre più complesso e che aggredisce spesso il mondo degli anziani e poi faremo anche tutta la prevenzione cioè tutto il tema della salute. Faremo delle iniziative per illustrare agli anziani come stare come dire in salute e vivere con una situazione di benessere. A Hauser sono sette anni che opera su questo territorio come volontariato e oggi con questa sede noi diamo un grosso segnale perché abbiamo una postazione fissa in modo da poter accogliere e aiutare le persone che sono qua. È una soddisfazione avere comunque una sede e offriremo con maggior impegno ancora i servizi di volontariato che Hauser offre.